E nelle 5 terre della Val Gandino come ci si sta muovendo per quanto riguarda il distretto diffuso del commercio? Ma credo che tutte le zone, soprattutto zone non eccessivamente grandi, dovrebbero muoversi un pochettino come le 5 terre della Val Gandino. Per esempio l'altro piano di Closone potrebbe avere la stessa finalità promuovendo tutte le iniziative diffuse del commercio. La stessa cosa dovrebbe fare tutta la zona della media valle e lo stesso dovrebbe succedere anche per quanto riguarda la zona di Nembro. Vedo invece che anche il distretto diffuso del commercio, al di là della Val Gandino che si è lanciata fortemente e in cui i sindaci credono veramente nel distretto diffuso del commercio, in altre parti è un po' fermo. Il distretto diffuso del commercio è fondamentale per tenere il commercio di vicinato, il commercio di prossimità, per tenere aperti i negozi. Noi sappiamo che i nostri piccoli paesi possono funzionare soltanto finché ci sono negozi che fanno anche loro data tramite social insieme con la parrocchia, insieme con l'attività del comune, insieme con i bar, insieme con alcune manifestazioni. In Val Gandino ci stiamo riuscendo, ci stiamo riuscendo lanciando anche prodotti nostri, lo spinato, il maes spinato da Val Gandino, il pane della Garibalda, lanciando i formaggi della valle, i formaggi di capra anche, cercando di far muovere i ristoranti in modo che possono fare anche prodotti e cibi tradizionali locali dal punto di vista gastronomico e inogastronomico, quindi un rilancio anche di tutta quella che è l'economia agricola e alimentare a chilometro zero. Ci stiamo provando, ci stiamo riuscendo, le cose vanno bene, partecipiamo al quinto bando. Credo che tutto questo dovrebbe essere fatto anche dagli altri comuni, unendosi sotto l'ombrello grande, enorme di promoserio che deve fare la grossa pubblicità, unendosi tra piccoli comuni, tra una serie di comuni per fare alcune attività insieme, non staccate, perché le attività staccate, soprattutto nei piccolissimi comuni, difendono solo piccole sagre parrocchiali o comunali che non portano a uno sviluppo del commercio.